Ciao a tutti, io sono Stefano De Sando. La parola chiave di questi due sonetti è l'inizio e la fine. La creazione del mondo è il giorno del giudizio. L'anno che Gesù Cristo impastò il monno, che per impastarlo già c'era la pasta, verde lo forse fa, grosso è il ritorno all'uso di un cucumero di tasta. Fece un sole, una luna e un mappamonno, ma le stelle poi, di nagatasta, su uccelli, bestie in mezzo e pesci in forno. Piantò le piante e dopo disse, ah basta. Ah, mi scordavo di dirvi che creò l'uomo, e con l'uomo la donna, Adamo e Eva, e gli è proibita e non toccagli un pomo. Ma appena che a magna le ebbe viduti, strillò per Dio con quanta voce aveva. Ommini da vieni, siete fottuti! E' al giorno del giudizio. Quattro angioloni con le tromme in bocca si metteranno uno per il cantone a suonare. Poi, con tanto devozione, cominceranno a dire, Fora a chi tocca. Allora, vi arra su una fila strocca di schertri dalla terra, a pecorone, per i pià figura di persone come porcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, Che ne farà due parte, bianca e nera, Una panna in cantina, Una su il tetto. All'ultimo uscirà Nasona iera d'angeli, E come si sannassi al letto Smorzeranno li lumi. E buonasera. Nasona iera di bambini As Ma A B A Grazie a tutti